Signori miei benvenuti su Red! Scegliamoci uno styles, no? Voglio farmi... Glitch! Nessun tratto, gioco standard, gioco antifuoco, non risparmio, non può assorbire score, sferiti basti, la mazza, se affetti d'ossa... Magari questo è per rendere difficile la cosa, ne vogliamo renderla facile, cioè facile più che fragile, Get Cancer! Ok, 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 ok! Nuova partitela, Red! Musiche sotto incredibili, quanto ho? 454, bassino eh! Bassino, 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 è una cosa che non mi piace tanto! Andiamo di qua, poi piano piano si sbloccheranno altre aree, eh ragazzi? Vi ricordo, vi ricordo! Spero che mi veliate bene, oggi Felpina, fa un po' fresco, si vuole sudare anche un po' perché sono un po' in PAMP! Ok, lande spezzate, signori miei, molto leggeri andremo qua, eh, ovviamente, molto leggeri come sempre, cerchiamo bene tutto, mi si sta spegnendo lo schermo, no, è PAMP! Ok, ok, c'è anche questo, questi qua li odio, però sono one shot loro, double! Ok, 6 uccisioni, bene, benissimo, giriamoci un po' di qua, prendiamo tutte queste cose qua, perché danno tanta 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 esperienza, soprattutto all'inizio, ok, bam, bene, 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 siamo sempre all'elta, eh, toh, toh, voilà, mi manca un nulla, passo, yes, il braccio, il braccio, il braccio, questo è ottimo, poi man mano, ragazzi, che lo potenziamo diventa un mostro, eh, infatti, diventa un mostro, se riusciamo a potenziarlo bene è una furia questa cosa qua, due ne abbiamo, sì, due, 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 vado subito qua sotto anche, non abbiamo trovato ancora un mercante, i mercanti guardiamoli bene, tipo questo, e magari hanno le cose mutate, mutate, farò recuperare più salute, no, ripetendo un po' di salute, non mi interessa, questa volta non mi interessa, il braccio è ottimo, ottimo davvero, ragazzi, veramente ottimo, double, voilà, non c'è nulla di qui, di qui nemmeno immagino, e invece ragazzi, c'è un teletrasportino, ce lo teniamo buono, un'altro teletrasporto, ok, è giusto esplorare e guardare, ragazzi, perché sennò qua si perde tutto il divertimento di Red, io vorrei provare quello lì, ma non sono convinto, vado ancora oltre, sperando in un, di quelli che mi mutano, ok, bom, la grande, eccolo qua, infatti, è una, abbastanza grande questa cosa qua, eh, questa cripta, ragazzi, mi fa, dammi qualcosa di passivo bello, la tua area non conosce il gioco, la frequenza cardiaca è aumentata, ottimo, i mercanti li abbiamo già visti, quindi direi di andarcene di qua, intanto non credo ce ne sia un altro, siamo proprio troppo all'inizio, siamo troppo troppo all'inizio, che cazzo mi ha portato questo qua, tu, dai, oh, voilà, 14, vuoi riprovarci, bro? e allora? hopla, siamo tornati, bitches, vedete, ci risparmiamo anche un bel po' di rotture di palle, così, voilà, abastardi, eh? pensavi di colpirmi un famone, eh? col cuore di fuoco siamo un po' più forti rispetto agli altri, eh? terzo colpo è fortissimo, quanti mostri qua? voilà, quanti mostri qui? si salirà di fretta di livello allora qua, eh, ragazzi? quanti? guardate che roba, li devo ammazzare tutti ovviamente, eh? voilà, mostro, mostro, mostres, sbaglio o vedo un, un fenomeno qua, per coprire l'isolotto, cura lentamente, per un lasso di tempo, conferisce l'endomodazione di isolatore, ti rendi mona l'elettricità, questo me lo prendo, perché ci serve sempre, ragazzi, rocce, ok, finalmente siamo, beh, l'elettricità si vede poco qua, eh, madonna, guardate che distruzione di massa lì, vado, via, brucio tutta sta merda, dove cammino io? ah, mi sta facendo un po' malino, eh, però, ci stiamo dentro, bro, mi ha dato mutazione cuore, avete visto? mi ha sdoppiato, appunto, il cuore, ma io direi di tornarci, no, devo andare ancora oltre, se ne guadagniamo poi più, eh, monetine, poi le diamo dentro, vediamo, e le hanno spezzate due, non vedo nulla lì qua, per sé, quindi possiamo andarcene oltre, senza problemi, ok, uh, qua c'è, compro sì, cura lentamente, pozione della salute, spendiamo un po' questi soldini, ci aiutano molto, eh, Naya, super veloci, questi qua, ma che è, oh, è un disastro adesso, questo non l'avevo mai visto, eh, so, finalmente, questo era una mostrua da folate, che allontana i nemici, oh, potrebbe anche essere interessante, sapete, con, con il braccio, voilà, to, 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 sciolti, 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 bro, va che roba, va che roba ragazzi, madonna, madonna, mostro, monsters, ok, adesso potrebbe diventare roba, arrivederci, questo qua c'ha una roba in mano, una roba, ne aveva un botto di roba, altro che una roba, ma quando sono gonfio, vedete, posso saltare di più, è interessante questa cosa, molto interessante, mi vado a fare la criptina ragazzi, vedete posso saltare, bravissimo, bravissimi, tutti bravi, 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 ne vado di qua momentaneamente ragazzi, tu cosa sei, ti ho attivato, recluta, mutanti con proiettili, questo è interessante, forte, questo è interessante come attacco, mi ha mutato rispetto all'altro che, per fortuna preferisco questo, tu, 100% di cripto in un breve periodo, cura lentamente, non mi interessa, bella sta cosa che hanno messo comunque, che puoi usare i soldi, anche, er che, spacco tutto, stop, get cancer, top, benissimo, puoi usare la, diciamo, la carta di credito, enorme sto posto, ok, ah facciamoci subito questa, così almeno siamo più veloci, anche dopo, lo raccolgo, lo raccolgo, broa, così almeno dopo magari con il boss che c'è il minotauro, se non erro, sono molto cattivo lui, mi ha riportato qua, che mi sta anche bene, non mi sta bene, non mi sta bene per un cazzo, il negozio l'abbiamo visto, quindi difficilmente riusciamo a trovare altro qua, non abbiamo trovato quello che muta, oh, la mia amicchietta vuole perdere altro, non c'è segnalo, neanche perché te lo su colpisci l'antenna, vabbè, utile, è bello dare una mano a questi poveracci, sinceramente, non mi dispiace, perché magari ti hanno dei soldini, ti danno delle pozioni, come ti ho visto, cose che hanno, non ce ne ho fatto un cazzo, bravissimo, effettivamente molto bravo, ok, allora, torniamoci, è possibile che qua, cazzo, non mi ricordo cosa ho visto di là, ma sì, lì c'è un portale, basta, non c'è nulla qua sotto, a parte il mutatore finto, ma non saprei, eh, torniamoci indietro, magari c'è un'altra cosa qua, ok, dove eravamo prima? vediamo un po', la zona è grossa ancora, ragazzi, la zona è molto grossa, ok, ma pensa a te, sto cancaro, fai il bravo, fate i bravi, fate i bravi, così, ok, vediamo un po', di qua, ma, allora, c'è da dire che, sono un po' piccio, si può dire piccio, si può dire, certo che si può dire, perché il ponte, l'ho completamente brasato, ti ho visto, bro, sei stato molto bravo, sì, l'ho completamente brasato, ok, ce ne andiamo, ce ne andiamo a fare subito il boss, il floor di Zupen, pochi soldini, vedete che abbiamo pochi soldini, Minotauro, no, bel manzo, è diverso, ti smonto, bro, ha glitchato un po', ok, ok, io sono un red, mi dà un altro cuore, vero? grazie a basso, e troverò ancora più cassette, e che ridere, topo di biblioteca, ho sbloccato l'archivamento, passiamo, passiamo, andiamo oltre, andiamo oltre, ragazzi, andiamo oltre, io registrerò magari, diverse puntate, poi le unisco, vi faccio un episodio unico, è come ho sempre fatto, perché comunque, registrarlo di fila, non è così leggerino, perché devi pensare molto, comunque sul red, vediamo un po', amichetti, troverò ancora più cassetti, musica cambiata, ragazzi, quindi stiamo attenti, qua c'è, che cazzo è, ma che è, oh, di morire, fra poco, c'è una nuova mutazione, ragazzi miei, bro, che qua stiamo già, a questo tipo di livello, perché a lui non gli fai niente, perché a lui non gli fai niente, to, è una sola, no, ne mancano due, viste, devo salire lassù, la domanda è, come salgo lassù, ho capito, non ho capito niente, non ho capito niente, ma che, oh, questo cosa è veramente infame, non è servito a nulla, qui è solo una perdita di vita, usiamo le, queste maledette foglie, guardate, cos'è questo, ok, uh, le uova, ok, facciamolo uscire dal culo, questi cosi, mutazione, non so se mi darà un passivo brutto, me lo dà, guarda eh, trovi i frutti ascolti con il suo olfatto, no, no, mi sono sbagliato, ma stranamente, tre abilità, eh, questo ci dà una roba brutta, 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 infatti, ora vedi il mondo con occhi diversi, non in senso positivo, devo trovare quello che mi toglie il malus, qui, qua non ci sono, eh, oh my god, se si chiama, eh, non è facile così, ragazzi, ma intanto tiro su questa, devo trovare assolutamente un mercante che mi dà una roba che mi toglie il malus, qua non c'è un cazzo, qui, qui dammi qualcosa di buono, tu, dobbiamo delle stanzine in più, vabbè, comunque se tutta esperienza, questa ragazzi, non vedo niente, non vedo niente, io sono cieco, toh, infame, forse c'era qualcosa, non lo, non lo vedevo, quindi, ma pensa te, pensa te, mi sono fatto fottere da quell'affare di questo qua, degli occhi non mi era mai capitato, ragazzi, sono molto ampio questa, mi brucia tutti i colori, mi brucia, no, mi piace, perché il red è bello per i colori, e questi me li tolgono, andiamo oltre, andiamo oltre, bro, via veloci, via veloci, e chi lo sa questa, questo è quello rotto, ci dà un malus, quindi non me lo prendo, questo qua, ma dovevo giocare meglio, urca, ahhh, zio porcone, un botto di scatolette, ok, fermi, colpiscilo, payday, via veloce, pescale, signorina, si spare, no, 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 non c'è un mutatore qua, non mi piace questa cosa, vado oltre, vado oltre, magari back ho ancora esperienza, infatti, e infatti, basterebbe che mi toglie la vista, sapete, la tua pelle è ignifuga, oh, mi dispiace molto, la pelle è ignifuga, cento novantotto novantanove monetine ragazzi mica pizze ficchie bene me ne vado perché fuori di sopra sono ignifugo bro non mi fai niente non mi fai niente allora di solito qua di fianco c'è sempre un negozio oh con l'ignifugo ragazzi hai finito il gioco più o meno perché se trovi l'ignifugo figlio di puttana eccolo lì guardalo lì c'è qualcosa draina dal corpo le brutte cose toglimi la vista gronde puttana ragazzi non so se vi è chiaro che cosa ho fatto si mi sono tolto finalmente con la schifezza lo facciamo fuori lui lo facciamo fuori lui mi da il cuore mi da il cuore penso penso che mi dia il cuore infatti mi ha dato il cuore qua adesso mi evolvo ragazzi appena finisco qua voilà lancia più braccia insieme ma cosa mi dici bro è finita è finita è finita mi boh chiudiamo 141 141 3 floppy boh è andata senza saperne leggere ne scrivere ragazzi vado a subito a consegnare i soldi qui mi compro un floppy da lei così man mano che guadagna più soldi lei migliorano anche di brutto le cose che poi lei ti vende quindi quindi non male devono aggiornarlo so che c'è un aggiornamento molto molto grosso che deve fare red di una decina di giga addirittura hanno detto una roba oh sì non ci arrivo andiamo ah già che solo io sono i nifugo non so cosa sia perché essendo cambia di continuo bene andiamo via in modo veloce bro ne abbiamo due da svelare di que io queste non le tocco perché mi danno solo malus che paura immensa che il gioco mi fa schifo mi fa c'è un bravissimi urco che picciu che picciu sono un picciu poi vi racconterò signori che cos'è un picciu ma fuori dai cogliati sei mio vieni bro ziu porseo come cazzo salto lasso uso le piante no sta cosa delle piante non mi gusta non mi gusta mostro via via voilà me ne vado mi manca ancora tanto per evolvermi ragazzi lui è rotto mi girano le balle questo roba qua bro mostro 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 mosters questa è una cosa molto strana eh qui non c'è niente ma non penso sia finita qui dai infatti c'è tutto un altro apparato di qua cos'è sta roba se muore recupero l'uso anzi si va ah no al posto di posto di quello no mannaggia c'ho solo due due floppy sono un po' al limite andiamocene via ne manca uno ne manca uno qui c'è qualcosa ma chi è questo questo qua di solito hanno sempre qualcosa tranne lui allora allora è così produce un polipo amico che ti protegge non mi interessa cura lentamente assorbe tre attacchi tossici non mi interessa tu sei? non ti ho mai visto in giro bro mi siete persi una cosa eh questa qua sono crypte segrete e molte volte dentro hanno cosine molto interessanti strane questa volta che come avete visto non hanno un cazzo bacchissimo vai 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 io dovrei potenziarmi ragazzi assolutamente la cosa telecinetica arca di ok madonna bravissimi bravissimi da miniera d'oro vedete con un floppy avete visto quante cose abbiamo fatto oltre a tutta la l'esperienza perché qua sono tutti mostri comunque vedete abbastanza fortini eh via fuggite sciocchi direi anche vediamo un po' lui record mutante per sempre vedete ci ha potenziato per un floppy eh ragazzi uno ne ho già trovato tanto un altro quindi vedo che come potete vedere non è un problema avrei preferito magari ancora le braccio o le uova come potenziamento ma anche questo va bene voilà 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 adesso ci va un mese per uscire però intanto adesso prendiamo la via abbiamo preso la via Schumacher il suono di questo gioco ragazzi ti sfondo bro non so se vi state rendendo conto si vi state si ma questo no vabbè non fa niente non importa perché ho zoomato così tanto allora siamo qua dietro e ho trovato anche quello io posso salire di qua vedi che vi sto a parlare ragazzi vedi cosa sto a parlare posso reclutare tutto stai troppo lontano vabbè va vieni con me bro senti allora se non vuoi fare il bravo ragazzo che che puto naio Toh 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 Datemi una mano Figli di bagascia Sono al 110 Flabbies Una Un'altra che fanno due Facciamo ancora questa Boss E poi ci vediamo alla prossima Ma ti rendi conto? Ma mori Pensate Un colpo Pensate che roba Oh Cristo Via Ma aspetti là di correre Muori 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 Mostro Mostro Un mostro Un mostro Ma potevo comprarlo Allora ragazzi Potevo M'avevo tutto Comprarlo Vai da lui Boom Mazza Che trona Puoi venire Puoi venire con me Puoi venire con me Non puoi venire con me Non voleva venire con me Andiamocene via un secondo Perché Mi sembra strano Che non ci sia nulla Qua da Vedere Da toccare Dato che stiamo per finire La prima Prima parte Che poi Registrerò anche la seconda Questo è quello rotto Che palle Un negozio Beh 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 Niente Bene 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 Ci stiamo dentro Ragazzi Siamo a due Siamo arrivati al boss Finchio Che cazzo sono qua Sono già andato qua Sono già andato Il cuore là Non me lo compro lo stesso 142 Minchia Chi è? Doppio Il congiunto Puoi morire Questi qua ragazzi Sono un disastro Perché non posso colpirlo? Lui posso? Colpescilo Dio Non so cosa dire È devastante Guardate che roba Allora Adesso ci concentriamo Ci concentriamo Su altro Tutto 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 Ok Evocchiamo di nuovo Altri piccio Beh bene Queste braccia Triple Ragazzi Devastante Mi dà ancora una mutazione Del cazzo Guarda Altro cuore Pazzo come sono diventato Grosso e bello È bella Perché È una lei Il congiunto Mi mancava Ragazzi Il congiunto Mi mancava Compro Di nuovo Voilà Voilà 737 Ciò Eh ragazzi Non so se è chiaro Io direi al signore Che l'appuntamento è giù Finire qui Ci vediamo al prossimo video A tutti Altra poco Signori benvenuti E bentornati Su Red Siamo nella seconda parte Di questa qui Vedete che comincia a vendere Altra roba Lei Drener il corpo Le brutte cobs Ma non ci interessano Perché Non ne abbiamo Bene 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 Non avendone Non ci interessa Andiamo nell'altra Mi vedete bene Ho usato un'illuminazione Un po' diversa Più che altro Per non farmi dare Fastidio Con lo schermo Ok Così dovrei essere Bello pieno Bello a posto Guardate che colori Che ha questa roba qua Non andate mai qui Perché vi rovina Completamente la run Partiamo da qua Ok organizziamoci Ah qua c'è questo Ok Eh ah Loro qua sono Un pelino inutili Perché comunque Perché comunque Non puoi Far troppo Mi ricordo manco i tasti O mi ricordo Loro ogni tanto Droppano qualcosa Non è questo Non è questo il caso Me ne vado io Di qua Ehm Via via Spacchiamolo Sparai Sono ottimi Allora il braccio È ottimo Contro quelli In maniera Abissale Che sei te Guardate oh Qui non c'è un cazzo Ne vado Ne vado Ne vado In modo molto veloce Qui abbiamo solo lei Siamo molto vicini a Migliorare ancora qua Piballe 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 Rompiballe Get cancer Pure tu Qua su c'è qualcosa Ci proviamo ad andare Spero che questa serie Vi piaccia Penso di essere Uno dei pochi Che la porta Su Youtube Italia Oh madonna Oh madonna Oh madonna Via Ma non è vero È una bugia Perché dice Che sei disconnesso A me tocco qualcosa Io Spaccalo Ti sto dietro Bro Non a me Non a me Mi sono evoluto Ah mi ha potenziato Gli ovetti Oh Tutti Bravissimi Bravissimi Che amori Che sono sti cosi Uh Quello non tocchiamolo Perché ci dà cose Molto brutte Molto brutte Qua ci siamo già stati Cristo signore Ok Qua magari ne troviamo una No Troviamo di meglio A dire il vero Cura lentamente Conferisce Pelli di rito Aumenta la qualità di critico Aumenta la qualità di lancio Ok 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 Questo ci serve Per i critichi Soprattutto Per i critichi Per i critici Soprattutto per i boss Per i boss Qua non ci siamo ancora stati Qua si Qua si Qua si Provo a tornarmene Momentaneamente Di qua Guardiamo spesso la mappa Ragazzi Perché Ci può sempre Aiutare La mappa Qua su Non c'è niente No Me la sto giocando In modo molto lento Ma è sbagliato Eh Devo andarmi a dire Avete Questo è rotto Pupupu Che Ma vangula Cos'è Quando muti Questo Gengio Guarda Ti metti A culo Direttamente Fu 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 Vuol dire Dalle cose brutte Le apriamo In modo tale Che Ah cazzo Perché Il controller È disconnesso Ti ho cambiato Le batterie Bro Ti ho cambiato Le batterie Ci sono le batterie Uh Non l'avevo visto Questo Dovrò magari Rifare la Come devo andare In modo rapido Ma uno Lo trovo Uno Trovo Cazzo Trovo Niente Forse Questo Non Problemi Unità Ostiri Di Merda Mi basterebbe Sperate Uh C'è Della Roba Qua Dentro Boom Cristina Davena Ok Riesco A capire 100% Di critico Me lo prendo Tenere il tuo colpo Le brutte cose Potenziali molto Il tuo trick Eh Un po' di salute Non so cosa voglia dire Me ne vado di qua Figlio di buttene Oh ma ragazzi Non ne ho ancora Trovata una Grazie Signora Grazie Quindi adesso Le cose Dovrebbero essere In modo diverso Molto diverso Chi è questa Totò Non sono stato io mai Ok via Non le vedo Non le vedo Non le vedo Siamo di nuovo qua Allora Vediamo un po' Ah C'è tutta una parte Di qui che abbiamo visto Qua siamo tutti qui A ridere e scherzare Pensavate mica Che fosse un gioco Questo Porca di una Pittene Via A fuori delle balle E due La via aperta bro Tanto ormai Più evoluti di così Non so se possiamo Ancora diventarlo Pappolo Via Via Mi stanno Ti prego Fammi passare di qua Ti prego Yes Yes Quindi adesso qua Ci sarà il Baos Via Ho 100% Di qui Calma 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 Ci senti Allora Si senti allora Nulla Avete visto che non mi ha dato Nessun tipo di Potenziamento Allora noi andiamo Direttamente oltre Loading Qua ne abbiamo tre Dopo di questa Credo che abbiamo finito Sapete Oh no Non è vero Controlliamo bene Dove può essere Uno è qua Bene Bruciolo Sono lento a colpire In maniera Devastante Opa Non c'è niente Di solito escono i mutanti Di merda Ah Mi ha portato qua Che viaggio intergalattico Amici Cazzo Ma io qua ci sono già andato Va bene E giù Un critico me lo fai? No Non me lo fa Vediamo dove mi porta questo Mi porta qua Questo qua andrebbe attivato In qualche modo Cazzo Cazzo Eh che cazzo Via Via subito Se potessi atterrare lì Madonna Adesso ne avrei un'altra Da fare Passiamo di qua Allora Uno è lì L'avete visto Putta Spacca lì Mi danno delle mazzate Botte da oro L'ombo Corrotto Che cazzo Qua è giù? Non è andato giù Oh Bagassa Che non sei altro Ci ho andato Abbastanza esperienza Qua Non tanti Penso lo sapevo Io lo faccio E me ne vado Devo stare attento Vai amici Però Firely mi fa trasformare Toh Toh Infame E siamo a 2 su 3 Lì c'è un'altra roba Che però Non ci interessa Io qua ne ho 2 Ancora Eh ragazzi Mi sfugge qualcosa Mi sfugge questa Vero? C'è una roba Esattamente qua Io devo arrivarci In qualche altro modo Vero? Devo arrivarci In un altro modo Io qua ragazzi Magari arrivandoci Da qua Ce la faccio Sì Puttana Allora Muore Opa Non è male che ho un'immunità Abbastanza alta Con questi Ok Ok bro Adesso ti rianimo Alla via È pronta Bro Oppa 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 Non me l'aspettavo così lunga Io Io questa La apro Faccio Me lo potenzia No Braccio Braccio di fuoco Colpisci Non è neanche Non è neanche così male Anche se avrei preferito Un'altra roba Va bene Abbiamo perso il triplo Braccio fotonico Della morte Quanta espense Mi date Quanto È un disastro Ragazzi Via Via Mi fanno rallentare di brutto Ah mi danno poco Ok Bravissimi Ma bravissimi davvero Complimentoni Non è quello che volevo Adesso la grana è tornare proprio di là Non è così immediata la cosa Proviamo a farceli tutti lo stesso Vediamo un po' dove seguono Ma io di qua Provo Provo questo Che tanto non ho ancora fatto È quasi andata bene Amici Pensate 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 Oh Signori Siamo alla resa dei conti Vediamo stavolta Che cosa Succederà Una volta abbattuto Tutto questo Il cazzo Colosso è una bestia Vediamo stavolta Vediamo stavolta Vediamo stavolta Vediamo stavolta Eh, qua adesso andiamocene via e basta Pa 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 Ok ok Eh, più forte del solito ragazzi Perché siamo È debole al fuoco però mi sembra No, le torrette no, bro Via Andate via Eh, Gesù Mi l'ho buttato proprio sulla morte Con questo siamo morti Non usare tutte le armi a nostra disposizione Non siamo potenziati tanto come le altre rane, ragazzi Capisci, no? Boom 85 Cazzigli abbiamo, eh Adesso facciamo questo e vediamo la storia Cioè, adesso comunque da ventina di minuti Non è neanche tanto, eh Guarda che scena Va che roba Va che lavoro Spaventoso Un po' troppo lunga La cosa Allora, una volta siamo morti Un'altra volta ci sono mutati E questo è L'uomo Ok Ok Siamo diventati una batteria 4 di 9 Disponibile come acquisto e ricompensa a cuore multifuoco Ma non ce ne frego un cazzo Ah, ok Bene Andate bene, sono a dire che l'appuntamento di oggi viene qui Cioè, al prossimo video Tutti a tappo